Demi Lovato Demi Lovato, il suo corpo sexy è merito degli Yitsu Demi Lovato ha appena rilasciato il suo sesto album, Tell Me You Love Me, ha dominato le classifiche mondiali sin dai tempi in cui era una delle amate reginette Disney. Demi Ha avuto una vita privata travagliata intensa, che l'ha fatta maturare presto. A tenerla sempre in forma perfetta c'è lo sport, e in particolare il Yitsu brasiliano. Ecco i consigli del suo personal trainer per affrontare il mondo con l'entusiasmo bruciante che riesce a tirare fuori anche Demi. Il Yitsu brasiliano, un segreto di bellezza e che stende. Demi Lovato ha una voce imponente e una carriera pluripremiata alle spalle. Nel suo piccolo, però, ama dedicarsi anima e corpo agli sport che la rendono più forte e più bella. Di recente, la star ha conseguito la cintura blu in Yitsu brasiliano, e con un grosso sorriso pieno di gioia ha ringraziato tutti coloro che l'hanno reso possibile. Mi sono innamorata perdutamente del Yitsu brasiliano, ha scritto mentre, sorridente, mostrava la sua nuova conquista. E non è facile rubare il cuore a Demi, specialmente per quanto riguarda le discipline sportive. Demi è un appassionata di muay thai, boxe, arti marziali miste e tantissime altre tecniche di fitness, ma il Yitsu l'ha conquistata in tutto e per tutto. Dunque, che cos'è esattamente questa disciplina?. Che cos'è il Yitsu brasiliano che pratica Demi Lovato?. Il Yitsu brasiliano fa parte delle arti marziali e viene praticato come disciplina per la difesa personale. Questo sport è perfetto per insegnare agli individui di corporatura più piccola a proteggersi da eventuali attacchi di una persona più grande, e sfrutta prese e posizioni che vanno a infliggere colpi alle giunture dell'avversario. E' un adattamento del Yitsu giapponese, ed è un'arte marziale molto fisica, il 90% delle schermaglie finiscono al tappeto. La maggioranza delle tecniche, dunque, si svolgono a terra, in sequenze di prevaricazione e sottomissione. Il Yitsu brasiliano non è solo un'arte marziale, è uno sport che forma il carattere e conferisce autostima, che migliora non solo il corpo ma anche l'approccio mentale alle novità e alle situazioni impreviste. Ma c'è molto di più in questa disciplina tutta da esplorare. Demi Lovato ha parlato più volte del suo amore per il Yitsu brasiliano, pratica che consiglia a tutti i suoi fan per migliorare il rapporto con se stessi. Mi alleno perché amo come mi fa sentire. Adoro la sensazione della serotonina che viene rilasciata nel mio corpo, ed è importante prendersi cura di se stessi a livello fisico tanto quanto a livello mentale, ha raccontato al Self Magazine. Il Yitsu brasiliano è bello perché è molto vario, e non annoia mai, mentre ti rotoli con qualcuno e combatti, se è intento a pensare ad attaccare e, contemporaneamente, difenderti. È un modo per meditare su di sé, ma al tempo stesso è un allenamento perfetto. Il Yitsu brasiliano è bello, e non annoia mai, ma al tempo stesso è un allenamento perfetto.